Salve a tutti amici, gli attacchi con le armi ad energie dirette attraverso le organizzazioni paraterroristiche militari degli occulti delle SS di Roma capitale, uguale MK Ultra capitale, stanno continuando con gli attacchi, con le manipolazioni, con i lavaggi del cervello, con le comunicazioni telepatiche e tanto altro. Mi stanno arrivando numerose email di aiuto, numerose email che cercano una parola di conforto e cercano una soluzione. Ovviamente alcune persone sono disperate perché sentono anomali della rete che incitano le persone a togliersi il microchip inesistente all'interno del loro cervello, all'interno della loro pineale. Il microchip non esiste, noi rileviamo le radiofrequenze transgraniche sparate dal sistema satellitare in frequenza d'onda convogliata con parametri a fotoni o a frequenza laser che viene riconvogliata all'interno dei nostri alloggi, all'interno dei nostri luoghi di stazionamento, all'interno delle macchine dove noi stazioniamo o viaggiamo. Sono attacchi e sperimentazioni con armi ad energie dirette effettuati dalle SS Capitale e dall'MK Ultra Capitale, che è la seconda fazione terroristica nazionale per le sperimentazioni ai collaudi di Satelli di Spia su cavi umane, su bambini e su persone delle forze dell'ordine e tanto altro. Un saluto amici da Emiliano Babilonia.